Diversi cittadini hanno segnalato di avere incontrato delle difficoltà quando è stato chiesto loro di esibire il Green Pass per l'ingresso all'ospedale Sant'Elia come visitatorio per accompagnare i parenti che dovevano sottoporsi ad esami diagnostici. In effetti la certificazione verde è ancora necessaria per accedere alle strutture sanitarie, come riportato anche sul sito ufficiale del Ministero della Salute, ma i problemi hanno riguardato pure persone che hanno completato regolarmente il ciclo vaccinale con la terza dose. Nel caso in cui la terza dose sia stata effettuata da oltre sei mesi è semplicemente necessario aggiornare la certificazione riscaricando normalmente il Green Pass attraverso i siti ufficiali o tramite l'app Immuni. Come da normativa vigente per fare accesso alle strutture pubbliche è opportuno esibire il Green Pass. Il Green Pass ovviamente deve essere valido in corso di validità e nel caso in cui questo risulti bloccato è opportuno riscaricarlo.